Il governo manifesta in maniera esplicita la sua sensibilità e la sua vicinanza alla comunità ebraica. La statura umana, culturale, anche politica, è stato un grande partigiano. Sì, il lutto per la città di Livorno è scomparsa sicuramente di una personalità, una persona di altissimo livello. La forza, la capacità di fare del dialogo, uno dei tratti distintivi del suo percorso.